Arriva il primo sequestro di botti legali in Puglia. In vista del capodanno 2022, gli agenti della divisione anticrimine della Questura di Bari hanno scoperto un deposito di materiale esplodente di illecita provenienza nel territorio di Altamura. Si tratta di circa 200 kg di botti legali divisi in tre bancali pronti per essere immessi sul mercato che ogni anno prolifera con l'avvicinarsi delle festività del 31 dicembre e 1 gennaio. L'intervento è stato messo a segno con l'ausilio degli agenti del nucleo artificieri della Polizia di Stato di Bari e del commissariato di Gravina in Puglia. Il materiale pirotecnico era nascosto nella sede di un'azienda altamurana dove le forze dell'ordine hanno fatto irruzione. Un 59enne rappresentante legale della società è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materi esplodenti. I 200 kg di botti legali sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati alla custodia giudiziale di una ditta specializzata.